Se tu avessi qui davanti la persona che ti ha sparato, che cosa le diresti? Cosa ti senti di dire? Niente, perché l'ha fatto? Solo questo. Perché l'ha fatto? Perché io non l'avevo fatto proprio niente. Quindi io voglio chiedere solo perché l'ha fatto. Perché io non l'avevo fatto niente a lui, niente. Io stavo solo lavorando come un cristiano che lavora e basta. Quindi solo questo lo voglio chiedere. Perché l'ha fatto? Perdono? Dio, Dio, perdono a Dio. Jeffrey è il ragazzo che il 10 aprile scorso è stato ferito con tre colpi di pistola mentre era a lavoro a Pescara. Dopo un'intensa riabilitazione è tornato nella sua casa di Chieti da qualche giorno per riabbracciare familiari e amici. Grande appassionato di Fugilato sarà testimonial del Fight Club International Championship in programma domani sera al Palatricale di Chieti. Si tratta del più grande evento di sport da combattimento d'Italia. 16 in totale gli incontri in programma, 2 i titoli mondiali in palio. Parteciperanno tanti campioni con Gelfri, campione di coraggio e forza. Come stai? Come ti senti? Allora, prima cosa è tutto bene. Grazie a Dio e andiamo avanti. Ecco, grazie a Dio quindi in qualche modo mi stai dicendo che sei vivo e questo è quello che conta. E' quello che conta. Grazie a Dio che sono vivo, che lui grazie a Dio che mi ha lasciato vivo, almeno anche in sedia ma vivo però. Quindi io sono contento perché sono vivo. Oltre otto mesi sono passati da quel terribile 10 aprile, Gelfri. Insomma, sicuramente avrai pensato e ripensato a quello che ti è successo. A mente fredda. Come ti spieghi quello che ti è accaduto? Allora, prima cosa non doveva succedere. E poi è capitato il destino e quindi dobbiamo combattere, dobbiamo superare questo ostacolo. Perché questo per me è come una prova di Dio. Io la prendo così, come una prova di Dio che mi ha detto fammi vedere di che cosa sei fatto. Io ti salvo la vita, sì. Ok, mi ha messo in sedia, fammi vedere che sei capace di fare, per vedere chi sei fatto veramente. Ti senti di lanciare un messaggio magari anche a chi sta facendo sport, a chi ha avuto qualche problema, bisogna comunque andare avanti. Allora, io mi dico questa parola, che questa parola mi ha insegnato tanto. Allora, tutti abbiamo dei problemi, chi più chi meno. E tutti abbiamo diversi problemi. Ma c'è solo una soluzione, Dio. Questo posso dire. Quindi continuate a fare le sport, calcio, pugilato, MMA, qualsiasi cosa che vi forma per la vita, sempre con rispetto, disciplina, educazione. E ascoltate ai genitori. Comunque tu ti piaceva il pugilato, ti piace tuttora? Mi piace proprio nel sangue. Quindi sarai a Bordorinco? Certo, certo. Ci sarò, ci sarò.